Quando non ho tempo di tornare a casa per pranzo mi preparo e mi porto la schissetta in auto e mangio il mio pranzo in macchina oggi, il riso con olive, tonno e mozzarella. Oggi sono venuta a Milano in salone da Luciano Colombo per rifare la tinta. Luca sta preparando i Noa di L'Oreal Professionnel Paris, esclusiva colorazione senza ammoniaca. È un servizio colore solo professionale fatto su misura con oltre 90 nuance. Resta delicata sul cuoio capelluto senza danneggiare il capello. Ok, ora si passa al risciacquo, una bella maschera per dare nutrizione al capello e passiamo alla piega. Et voilà, ecco il risultato, capelli bianchi 100% coperti e super brillanti. No No, no, qui, no, niente.